Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato al dibattito che si svolge in Consiglio regionale. Tra i temi toccati in questa seduta di marzo soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che purtroppo è stato all'attenzione della cronaca visto i recenti fatti di Firenze e Lucca, un tema che il Consiglio regionale vuole affrontare per cercare di far aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ascoltiamo le parole di maggioranza e opposizione sul tema più corposo di questa seduta. Tutti concordi sulla necessità di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Formazione, lotta al lavoro nero e nuove regole le priorità. La maggioranza ribadisce il lavoro fatto dalla regione negli ultimi anni. L'opposizione rimarca gli 800 ispettori del lavoro assunti in Italia in queste ultime settimane. Il tema resta delicato, consci che tutte le forze politiche dovranno lavorare insieme per avvicinare quanto più possibile il rischio zero. Intanto deve essere un impegno di tutti perché ogni volta che c'è un incidente sul lavoro e magari c'è anche un solo morto, questo è uno sfregio alla nostra Costituzione che basa la nostra Repubblica sul lavoro. Quindi pensare che ci sono persone che la mattina escono di casa e poi magari non tornano perché hanno avuto una morte nel luogo di lavoro è veramente una cosa che contrasta con la civiltà oltre a creare drammi umani, costi sociali e costi proprio economici. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la regione mette da tempo con atti, con leggi ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato quando ci fu l'incendio che costò anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche perché ogni anno la regione toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda appunto i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti ma tutto quello che accade, anche un solo incidente ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile quindi occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze, vale a dire ridurre i subappalti soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti come quello dell'edilizia e della filiera agricola, aumentare i controlli e per questo occorrono più ispettori, occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che amministriale sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie, occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità e questo deve essere fatto a tutti i livelli ad iniziare delle scuole e poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolte. Ecco queste sono alcune idee che noi indichiamo e su questo chiediamo l'impegno della Giunta e del Presidente di rapportarsi anche con il Governo perché si vada in questa direzione, perché questo è veramente uno sforzo di civiltà. È un dolore forte per le istituzioni constatare che magari andando a lavorare, uscendo di casa la mattina si debba poi morire sul lavoro, bisogna sempre ottimizzare ovviamente i controlli ma una logica a mio avviso migliore deve essere quella della prevenzione, dell'accompagnamento mi servono meno carte e serve più disponibilità e più comprensione a lavorare in sicurezza e serve una grande assunzione di corresponsabilità. Molte volte l'impresa stessa può mettere nelle condizioni un lavoratore di lavorare in sicurezza e servirà magari anche maggiore conoscenza del mestiere o dei lavori più che degli aspetti di natura burocratica. Io ho fatto un intervento che era leggermente fuori dal coro in quanto sia quello che ha detto l'assestore, sia gli interventi di maggioranza e opposizione sono stati interventi del tutto condivisibili perché sono interventi politicamente corretti. Io però ho voluto far astrarre coloro che mi ascoltavano dalla loro opposizione di politici e di parlare da utenti. Perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata? Cioè tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti oppure altre che ci sono state come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario. Per l'amor di Dio è bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa perché comunque l'economia è quella che è, l'angue, e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno, sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Per cui io vorrei che potessimo trovare una dialettica all'interno dell'assemblea legislativa che ci permetta di trovare un equilibrio. Cioè perché è inutile essere più realisti del re quando poi non si riesce a condensare le questioni in cose concrete. Per cui benissimo fare della prevenzione e di fare sicurezza sui luoghi di lavoro ma bisogna essere quantomeno realisti. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La regione toscana sicuramente accuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince alla comunicazione dell'assessore Ciuffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti. Ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano. Perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso. Spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni ma quello più congruo è più consono alla sua retribuzione e questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non far ritorno alla propria famiglia che è quanto di più brutto ci possa essere per fare battaglia politica. Ho apprezzato e l'ho detto anche oggi in aula l'atteggiamento per esempio della segretaria del Partito Democratico Schlein che all'indomani di quanto è accaduto a Firenze, nonziché rifugire come hanno fatto certi sindacati in facili polemiche, ha teso la mano alla Presidente del Consiglio Meloni dicendogli su questo si lavora insieme e auspico che anche il Consiglio regionale della Toscana possa fare altrettanto. La relazione dell'assessore è stata una relazione davvero molto esaustiva, molto ben fatta e anche con proposte innovative tipo il controllo elettronico di che entra sui cantieri che trovo essere un'idea straordinaria. In questi anni è vero che si è fatto molto, è vero che la sicurezza sul lavoro è cresciuta, che le norme si sono avanzate, ma è anche vero che purtroppo non passa una settimana che non avvenga qualcosa di un evento luttuoso nel mondo del lavoro, soprattutto sui cantieri edili e ma e non solo. Ora, senza tornare a rivangare quanto è accaduto sul cantiere qui a Firenze, in Via Mariti, che purtroppo è stato un evento così accratante, forte e luttuoso, che ha visto morire parli di famiglia, figli, genitori, la questione della sicurezza del lavoro, è vero che si può come dire portare avanti partendo addirittura dalle scuole, facendo una cultura sulla sicurezza. È vero che si possono anche aumentare controlli assumendo un nuovo personale, ma io mi domando quanto personale bisogna assumere per cercare di essere quanto più capillari possibili sul territorio. Io so per l'esperienza che ogni cantiere ha un responsabile della sicurezza ed è il responsabile della sicurezza che deve ogni giorno, a mio avviso, controllare in maniera inflessibile che tutte quelle che sono le norme vengano intemperate. Non è possibile però neanche che, questo è un paese dove bisogna dircelo, ancora oggi ci sono persone che aspettano per la strada, che arrivi l'imprenditore, che arrivi la ditta, la carichi sul furgoncino e la porti su un cantiere piuttosto che un altro. Ecco, tutto questo non deve accadere. Le persone che entrano nel cantiere devono essere registrate. Se il cantiere viene occupato da personale che non è registrato, colui che la porta se ne deve rendere responsabile, così come chi è il responsabile della sicurezza sul lavoro. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati, che tra di loro non riescono a comunicare, permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario e abbiamo il sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto. Tutto questo è inaccettabile. Il Governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo. Anzi, gli unici passaggi che sono stati fatti sono stati gli aumenti del personale per l'ispettorato nei posti di lavoro che sono stati fatti con i governi in cui il Movimento 5 Stelle si curava del lavoro. Diamo che è in discussione il decreto lavoro al Parlamento che andrà ad intensificare dal punto di vista di controlli, dal punto di vista di gestione, la sicurezza sul lavoro e abbiamo apportato anche noi delle richieste alla Giunta regionale perché, pensate, nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi una maxistruttura regionale su cui però ci sono dei dati allarmanti perché pochissimi sono i dipendenti che occupano la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza, è un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro chiedono di essere trasferiti altrove perché comunque il lavoro è difficile, quello di andare a controllare ma soprattutto di recarsi sui luoghi dove è avvenuta una morte, quindi questo è quello anche che fa quell'ufficio competente e quindi un lavoro molto particolare, molto stressante, molto difficile su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione, di corsi di stabilità anche psicologica per coloro che vi lavorano all'interno. Sicuramente la regione toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. Pensate, sono 100 le morti circa all'anno a contatto con l'amianto e ad oggi non c'è un piano amianto in Toscana. Ci sono i rider su cui tanto abbiamo dibattuto anche in consiglio regionale, c'è stata una proposta di legge ma ad oggi non sappiamo dal punto di vista di regolamento, dal punto di vista di attuazione della legge a che punto sia la giunta regionale. C'è il tema delle aggressioni, ricordo la dottoressa Capovani, le aggressioni all'interno dei presidi sanitari su cui la regione Toscana ha investito e continua ad investire più di 2 milioni per la sicurezza nei luoghi appunto negli ospedali però non sappiamo anche l'andamento di quel percorso di formazione, di sicurezza, di tutela dei presidi ospedalieri a che punto sia. È tutto dal consiglio regionale, ci vediamo ovviamente il prossimo appuntamento con cronache e dibattiti qui da Firenze nel Palazzo della Regione. Grazie a tutti!